C'è ancora istinti, Kashyyyk non è stato ancora conquistato, per la causa! Hai visto quel che ha fatto l'impero Akashic? Queste storie si stanno ripetendo in tutta la galassia. E' una e due, adesso sfondo, giocano un'altra. E' tosto eh? E' tosto ragazzo, attento? Niente, mi fa cura. Nooo! E' mo? Ciao cucciolo! E' Pao! Non muore tanto, ma si. Per te ero atterrato? Però mo si rialza. C'hai pesi, c'hai cose. Non te fa piacere, te prego. Eh, guarda che ha fatto. Mi son andato eh. Ancora? Bravissimo! Bravissimo! Bravo, bravo! L'hai incastrato là dentro! L'hai distrutto l'hai! Questo era bravo eh! Questo da solo, guarda cosa sta facendo contro treo. Perché stiamo a cazzo! Quanto può durare? Ah, non me l'ha preso il gioco. Niente. Dai tanto là dentro l'acqua, finì coglione. Con due però... C'ho portato a far sacrificio, raga! Buuuu! Braie! La prima win! Ma la porta, a me sta mazza! Guarda questi qua! No, pure quello c'è quella mossa! Porca miseria! Stai tutti qua sotto! Cazzo pure! C'è quella mossa là! Nooo! No, no, l'ha buttato di sotto! Due contro uno, mi sa! Al momento, via! Così subito! Non che giocassela! No, non chiude nell'acqua! Ci penso io! BOOM! Nooo! Non c'è credo quello che ho visto! Eh, con lo sbalzo! Copriti che va per terra! No Massimo! Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì quel supereroe ha fatto la giocata più stupida del secolo la fase finita posizione senza dubbio interessante questi calci di punizione e con questa rete raggiunge 4 a 20 con questi colori è sempre una bella soddisfazione la bellezza cristallizzata in un gol come non amare il calcio